Cambia a Taranto il comandante del reparto operativo, adesso il tenente colonnello Marziello che arriva in questa città dopo diverse esperienze in Puglia. Sì esatto, sono il tenente colonnello Francesco Marziello, da qualche giorno sono arrivato qui a Taranto. Ho oltre 30 anni di esperienza alla territoriale, molti dei quali li ho già fatti in Puglia, dal nord barese a Bari eccetera. Metterò a disposizione del comando provinciale di Taranto tutta la mia esperienza al fine di contrastare il più efficacemente possibile la criminalità, che questo è l'obiettivo principale per il reparto operativo e ricercheremo sempre il coordinamento con le altre forze di polizia e con le istituzioni presenti sul territorio. Dobbiamo fare una criminalità, specie quella organizzata di stampo mafioso, per raggiungere gli obiettivi che lo Stato necessariamente deve traguardare. Com'è stato l'impatto con questa città? Una città che già conoscevo per aver lavorato nel provincia limitrofe, insomma è una stupenda città fra l'altro come tutta la provincia ionica. Vedremo certamente di fare il massimo, quindi farò il massimo a livello di impegno, di risorse, proprio per raggiungere gli obiettivi che ci si preferisce. Grazie